Guarda se non mi sbatte gli occhiali, penso che sono melevo, come vuole. Non ci hanno, non te l'hanno. Io mi chiamo Indio, siamo qua a Calcata, vedete tutto questo, questa qui è dove io vivo, diciamo in inverno. Io sono un musicista, sono un artista di strada e faccio una vita molto particolare. Come potete vedere anche la mia casa è molto particolare, io vengo dalla tradizione hippie, perché sono nato nel 1965 e ho vissuto la mia giovinezza con tutta la rivoluzione giovanile che c'era a quei tempi e di conseguenza ha anche in qualche modo influenzato le mie scelte musicali. E anche le mie scelte di vita, anche se poi all'inizio la mia vita non era predisposta per questo. Io ero nato in una famiglia, avevo due fratelli e mandavamo avanti la ditta di famiglia, che era di movimento terra, asfalti, cave, insomma facevo un lavoro vero e proprio da imprenditore perché ero il figlio del padrone. Di conseguenza ho portato avanti questo mio mestiere che mi piaceva ma non era nel mio desiderio di quando ero piccolo per tanti anni, fino a che ho cresciuto i miei figli e poi ho deciso di cambiare vita. Ho rinunciato al denaro, ho rinunciato alle proprietà e la libertà costa a volte molto perché ho rinunciato anche a delle cose importanti. Però ho realizzato il mio sogno che era di essere un musicista libero, non un musicista di quelli che stanno sotto le grandi case discografiche o che si muovono come se fossero degli impiegati. Io ho scelto di essere libero e questo mestiere, come lo faccio io con il camper che giro l'Italia, eccetera, mi permette di vivere sereno senza alti fuori della gappia economica. Ecco, questo qui è quello che ho realizzato, dove vivo eppure dove praticamente i colori e tutto quello che c'è qui dentro parla della mia libertà. Allora, spero per tutti gli spettatori di Elettri TV che sia un messaggio per voi. Io sono partito da un piccolo paesino che si chiama Tarquinia e poi adesso giro il mondo, non ho più una fissa di mora e non mi cerca più nessuno. Sono veramente una persona libera e spero che sia un messaggio per tutti il fatto di coltivare i propri sogni e le proprie ambizioni. Ecco, spero che tutto questo discorso di ciò che ci importa, Indio, di che cosa, di quello che hai fatto. Invece questa cosa vi può aprire la mente e pensare che ogni cosa che si può pensare si può anche realizzare. Allora, il messaggio che voglio mandare a chiunque sta in questo momento guardando questa trasmissione è che coltivare i sogni di quando siamo bambini, di quello che veramente ci fa piacere e che vorremmo fare veramente nella vita è proprio questo, coltivare il sogno perché anche in età avanzata come poi è successo a me perché a me ormai ho dei figli grandi, non guardate Omar che ha dieci anni ma ho anche figli dei 31 anni, sono nonno, eccetera. E ho realizzato questo sogno da grande, anche se musicista lo sono sempre stato in qualche modo, sono stato sempre cantante, ho fatto dei musicals, ho cantato in cori gospel, ho avuto varie band di tutti i tipi di musica, dall'Irish, rock anni 70, eccetera. Però quello lì che veramente mi ha portato avanti è la speranza di una vita serena. Io non potevo vivere ogni giorno col pensiero domani come sarà e come viverò e trovarmi a lunedì a fare un lavoro che poi dopo non mi dava nemmeno più soddisfazione. Allora questo vi dico, coltivate i vostri sogni e portateli avanti perché questo mondo è molto più bello di quello che ci fanno vedere. Grazie a tutti da Indio. Un saluto a tutti gli spettatori di ElettriTV da Indio. Grazie a tutti.